Uno dice quando mai, invece prima è toppo, prima è carico, è toppo, vabbè. Uno si riesce che non c'ha più niente per la porta, perché se no dice quando mai, non c'è più niente. Sì, però non c'è più niente. Sì, però non c'è più niente. Sai perché? Perché che succede? Uno non deve vedere.